Vai! Vai! Ma non ti vuole di Mauro! Ma non ti vuole di Mauro! Ma non ti vuole di Mauro! La prima posizione! Ma non ti vuole di Mauro! Quasi si vorrei me divertirà! Ehi Gianguno! Gianguno! Middleais La prima posizione Ci ricardole! non lo facciamo bene ma se non ha la peccata non è vero un portello ma se non ha la peccata non faccio pure il portello non faccio pure il portello nooo non ci abbiamo niente non c'è niente senti ma la moglie per montare con migliori ma gli apriete un apriete a fuori no? sei peggio sei peggio tu 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 sei peggio ma siete belli eh questi cappelli ma dalla barca dalla barca hai sparato eh assolutamente si 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 stanno pure spazzando ciao bambini e perchè? no ma noi abbiamo sparato dalla barca dalla barca ma non c'era la festa eh ok vabbè ce ne stiamo andando a un bui si batta la festa a un bui però dalla barca ci faranno arriva dal pontile no 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 alla barca non ancora stanno ancora via stanno ancora via stanno spazzando sulla barca signori da dove abbiamo sparato? eh grazie non irri oh bella iscriviti buon vera poste a tutti no ありがとう grazie grazie sindi guarda in